Non è un'anomalia che i prefetti calabresi si incontrino tutti insieme per parlare di specifici argomenti. Lo fanno con cadenza abbastanza regolare o sotto l'impulso del prefetto di Reggio Calabria oppure quello di Catanzaro, responsabile regionale per alcune tematiche particolari. Questa volta sul tavolo comune sono finite le questioni inerenti all'immigrazione, particolarmente attuale dopo quello che è successo a San Ferdinando, e di conseguenza pure quella degli incendi, anche in prospettiva della stagione estiva. E' emerso che ci sono alcune emergenze in corso, come quella ovviamente dell'incendio di Rosarno, che ha portato a una redistribuzione sul territorio di alcune posizioni, e poi chiaramente si è discusso dei nuovi contratti previsti dal cosiddetto decreto Salvini, che vedono quindi un nuovo approccio al problema di migrazione con una differenziazione dei servizi. Quindi si è discusso di questo e si è cercato un po' di trovare un fronte comune, un comportamento uniforme. Sette partiti da San Ferdinando? Il caso San Ferdinando è da sempre, da circa un anno, che ha un focus particolare, sia da parte della Prefettura di Reggio, dal suo commissario straordinario, sia da parte del Ministero dell'Interno. Chiaramente quello che già era programmato e pianificato ha subito un'accelerazione, proprio per far sì che episodi del genere non possano ripetersi. Ma comunque resta un fenomeno grave, difficile e complesso. Non è facile spostare quell'umino di persone, così come non è facile monitorare la posizione amministrativa e giuridica di ognuno di loro. Anche gli incendi sono stati al centro di questo tavolo? Sì, si è parlato un po' degli incendi. Si è parlato poi dell'emergenza Stromboli e dell'emergenza Grecia, che sono due emergenze che noi spesso sottovalutiamo, ma lo Stromboli, che è un vulcano poco conosciuto, potrebbe avere delle reazioni da un momento all'altro con conseguenze spostamento dell'acqua e quindi delle onde anomali, che sarebbero per i nostri comuni fortemente pericolose. Lo stesso vale per la parte ionica. Quindi si è discusso un po' delle strategie da adottare. Per quanto riguarda l'emergenza incendici è ancora un po' presto, ma si è deciso comunque di seguire le linee guida, che per l'anno precedente non sono state già dettate al ministro dell'interno, riservandosi un ulteriore approfondimento. Calcoliamo che negli ultimi due anni l'emergenza interna si è molto mitigata nella nostra zona, però è sempre un'emergenza importante. Ci sono dei piani in atto, ma andranno aggiornati in una riunione che il prefetto di Catanzaro terrà probabilmente il prossimo 5 marzo, dove saranno adeguate quelle che è l'attualità dell'emergenza. Grazie.